Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo del fratello minore, chiamiamolo così, di un titolo che ha avuto discreto successo diversi anni fa. Il titolo era Abyss e precisamente io vi parlerò di Conspiracy, intrighi nel mondo di Abyss. Gioco di Bruno Catala e Charles Chevalier per 2-4 giocatori, una durata partita di circa 30 minuti, editi in Italia dalla Play Game Edizioni. Come Abyss si presentava con 5 scatole diverse con l'immagine a tutta scatola, anche Conspiracy lo potete trovare con 5 scatole diverse, una per ciascuna delle 5 fazioni che troverete all'interno del gioco. Nel proprio turno un giocatore dovrà reclutare nobili, piazzarli nel proprio senato e applicarne gli effetti. Per reclutare potrà scegliere ad esempio di prendere una intera pila degli scarti che sono sempre a faccia in su e suddivisi per colore e piazzare i nobili nell'ordine che preferisce. Oppure può pescare o una, oppure due, oppure tre carte dalla cima del mazzo a sua scelta, ma in questo caso potrà piazzarne una sola in plancia e le altre dovrà scartarle nelle rispettive pile. Ciascuna carta riporta in alto a sinistra gli eventuali punti vittoria e in basso a destra gli effetti che si possono applicare. Ad esempio potrei piazzare questa carta, varrebbe 0 punti vittoria ma vi permette di scambiare di posto due carte che sono già state precedentemente piazzate. Ci sono carte come queste che forniscono delle perle. Il giocatore che raggiunge chi ha più perle in quel momento o che supera chi ha più perle in quel momento guadagna il simbolino di maestro di perle che varrà 5 punti a fine partita. Potremmo ad esempio piazzare quest'altra carta. Essa vale 6 punti e siccome è quella della fazione viola che ha il valore più alto guadagna questo segnalino e sarà l'unica della fazione viola a fare punti a fine partita. Infine potremmo decidere ad esempio di piazzare quest'altra carta. Essa riporta una chiave d'argento. Possono essere d'argento o d'oro le chiavi. Quando piazziamo due chiavi dello stesso colore in sequenza automaticamente potremo piazzare un luogo. Potremmo sceglierlo tra quelli scoperti a faccia in su o anche in questo caso pescare una oppure due oppure tre carte luogo e prendere quello che più preferiamo. Il luogo deve essere piazzato sulla chiave e tutte le chiavi indietro saranno quindi eliminate. Gli altri luoghi saranno a disposizione degli altri giocatori. Queste carte verranno scartate come abbiamo detto in questo modo e tocca al giocatore successivo. Si continua a giocare così fino a quando un giocatore non completa la sua piramide di 15 senatori. A quel punto tutti hanno ancora un turno e si sommano i punti influenza. Sommeremo i punti influenza dati dal maggiore esponente di ciascuna delle fazioni. Sommeremo poi i punti dati dai luoghi che abbiamo visitato. Sommeremo tre punti per ciascuna carta che compone il gruppo più grosso contiguo dello stesso colore. In questo caso io sommerei 15 punti influenza ed eventualmente i 5 punti dati per il maestro di perle. Chi ha più punti è il vincitore. Per quanto riguarda il regolamento vi dico che sarà molto semplice sia da apprendere che da spiegare. Il mio consiglio infatti è di non spiegare gli effetti di tutte le carte e di tutti i luoghi prima dell'inizio della partita. Appesanti resta solamente la spiegazione. Tanto è tutto palese. I giocatori dovranno comunque appoggiare le carte in tavola e quindi vi basterà che uno al tavolo che conosce bene il gioco o che ha in mano il regolamento spieghi di volta in volta i vari effetti che si presenteranno. A quel punto ognuno potrà fare la sua decisione, prendere le sue decisioni con consapevolezza e non ci saranno problemi per la prima partita. Chiaramente quindi la prima partita la giocherete solamente dal punto di vista tattico. Quando però conoscerete bene gli effetti ma soprattutto i luoghi presenti all'interno del gioco potrete iniziare a giocare un po' una sorta di strategia scommessa ovvero sia a cominciare a predisporre un vostro piano o adattare il vostro piano in funzione delle carte che potrebbero uscire da lì a breve. Ciascuna carta infatti va valutata sotto molti punti di vista. In primis parliamo dei punti influenza. Come vi ho detto per ciascuna fazione solamente la carta di valore più alto farà punti a fine partita. Quindi diciamo che se puntate solamente i punti vittoria le carte che hanno valori più bassi della carta più alta che avete già piazzato di fatto non vi frutteranno alcun punto a fine partita. Detto questo però potrebbe interessarvi diventare maestro di perle che 5 punti influenza a fine partita potrebbero far la differenza proprio nell'economia della vittoria. È chiaro che cercherete di investire il minimo indispensabile ma una volta che avrete iniziato una lotta con un altro giocatore sarà molto difficile cercare di mollare il colpo e a quel punto vi conviene spingere per essere assolutamente il primo. Potreste invece valutare le chiavi per aprire dei luoghi che vi danno punti vittoria addizionali e nuovi modi per fare punti e quindi condizionare il vostro modo di comporre la vostra piramide. Le chiavi comunque sono di due tipologie differenti quindi se è vero che piazzare una dorata e una d'argento vi massimizza le possibilità di chiudere il luogo perché qualsiasi altra chiave farà la coppia. È vero anche che però una volta piazzato luogo tutte quelle precedenti sono cancellate quindi di fatto una delle chiavi precedenti sarà eliminata. In ultimo ma non meno importante è valutare la fazione il colore di ciascuna carta. Come avete visto il gruppo più grosso varrà tre punti influenza a fine partita per ciascuna carta che lo compone. Vi dico quindi che magari scegliere una volta di prendere una carta sola in modo tale che le prossime due vadano esattamente sotto al colore che sto già componendo. Prendere magari una carta di valore 0 che però permette di scambiare di posizione altre due carte può fornirvi tantissimi punti vittoria. Vi dico che in una partita ne ho fatti 27 solamente così. Per quanto riguarda l'aleatorietà del gioco vi dico che va di pari passo sul come impostate la partita al tavolo. Un tavolo pieno di giocatori che pescano una sola carta perché non lascia mai spazio nelle pile degli scarti. È vero però che i giocatori subiranno la partita non avranno pochissimo controllo sulle cose da fare a meno di spostare a meno di scegliere i luoghi di fatto dovrete sempre subire quello che vi dà il mazzo. Di contro un tavolo di giocatori che pescano sempre due o addirittura sempre tre carte fornirà un bellissimo controllo avrete modo di comporre qualcosa di bello ma dovrete puntare al power game diciamo migliorare massimizzare proprio il vostro effetto perché le pile degli scarti si faranno molto interessanti e quindi un giocatore potrebbe anche prendere tre o quattro carte in una botta sola e creare una super combinazione nel suo piano di gioco. In conclusione trovo Conspirasi un buon gioco family è una bella presenza al tavolo regolamento molto snello ma che permette a tutti di avere una buona sfida diciamo tutti dovranno concentrarsi per preparare la propria piramide e tutti saranno in qualche modo soddisfatti del loro punteggio finale. Trovo anche azzeccato l'idea di averlo chiamato intrighi nel mondo di Abyss perché ci sono molte somiglianze con il gioco Abyss ci sono tante cose mutuate da quel gioco e quindi si capisce come mai l'ho voluto chiamare il fratellino minori e niente non mi resta che dirvi di fare una partita e farmi sapere come va. Con questo ho finito e vi dico ciao e alla prossima! Prima di salutarci rispondo subito alla domanda che state per pormi. Le cinque scatoline con i cinque colori differenti sono differenti solamente dal punto di vista estetico dell'esterno. L'interno è esattamente uguale per tutte e cinque le scatole. Questo permette però di scegliere quella che più preferite nel mio caso vedo arancione scelgo arancione. Con questo quindi ho finito lasciatemi pure i commenti qua sotto pollice su pollice giù ricordatevi di iscrivervi a telegram e instagram per rimanere aggiornati su tutto quanto sappiate che ho iniziato a streamare anche su twitch quindi cercate recensioni minute anche lì se vi interessa la maglietta sfruttate il codice sconto e non ho più niente da dirvi ciao ne!